ci avete fraintesi il nuovo libro degli spiriti a cura di vb guida interiore tutte queste restano parole le quali possono divenire strumenti dell'io personale ed egoistico il quale si serve di loro per espandere per amplificare se stesso noi vi diciamo non violentate voi stessi e voi dite allora ogni mia limitazione mia natura e così sia ecco ancora una volta ci avete fraintesi cristo vi disse siate come gli eunuchi e i vostri sacerdoti vi dicono reprimete la vostra sessualità e ancora una volta avete frainteso cristo vi dice chi guarda un'altra donna per appetirla ha già commesso in cor suo adulterio e voi dite io non ho fatto nulla con quella donna allora non ho commesso adulterio così fate con le nostre parole ed è logico che sia così siete infatti ancora nella fase intellettiva della vostra razza questo però non funga da giustificazione in perciò che il karma siete voi e l'individualità che genera proietta se stessa in un tempo che autodefinisce e crea tempo però che non è oggettivo dal punto di vista della coscienza individuale in fotogrammi che non hanno nessuna reale oggettività in una manifestazione che non è quale voi la percepite in una entità che non esiste quale da voi esperita perciò crolla tutto il discorso che voi fate sul numero delle reincarnazioni sul ciclo sulla manifestazione crolla miseramente quale ulteriore manifestazione ed ultimo baluardo dell'esistenza del vostro io questo fa sì che le parole della sorella che mi ha preceduto giustifichino coloro che non vogliono perdersi in complessi ragionamenti ma voi che non volete questo chiedetevi se non lo desiderate perché avete paura di non trovare la strada o solo perché non ce la fate se non volete perdervi perché avete paura di ammettere che oltre a voi esista qualcosa di realmente trascendente ed eterno perché temete anche solo di ipotizzare che sia tutto vero e che non sia un parto dell'umana immaginazione o soltanto perché non avete la forza di accettare o perché appartenete a diversi canali del discorso sapienziale generale ora vi è stata fornita una motivazione ma voi subito dite non sono d'accordo appartengo a un diverso canale e così non promuovete la causa della coscienza individuale e ancora una volta il vostro io espande se stesso e trionfa incontrastato infatti il pensiero umano ha l'abitudine di circoscrivere se stesso tale è la chiave non lasciatevi dunque rinchiudere nelle molte prigioni che il vostro io costituisce intorno a voi alla vostra vita al vostro presente e da quel che vi attende